Vincenzo Dantò, l'accordo con Deruta sta per essere formalizzato perché sabato verrà firmato questo protocollo. Cosa prevede? Questo protocollo prevede una mutua collaborazione e promozione delle due città. Quindi noi ci impegniamo a promuovere l'artigianato artistico, quindi le ceramiche di Deruta che sono famose in tutto il mondo e loro si preoccuperanno di reperire i fondi per fare investimenti nella nostra città, sia per quanto riguarda il decoro urbano, quindi decorare alcune parti della città con le loro ceramiche, sia per l'implementazione di laboratori che possono essere utilizzati dagli studenti, ad esempio del liceo artistico oppure dai turisti per imparare a lavorare la ceramica. È un'iniziativa importante perché Civitavecchia comunque è una vetrina naturale per tutte le eccellenze italiane. Sicuramente Deruta rappresenta una delle eccellenze italiane in tutto il mondo. Quindi noi siamo fieri e orgogliosi soprattutto per il fatto che questa è un'iniziativa che parte da un gruppo di professionisti Civitavecchiesi che si sono riuniti in un co-working e stanno cercando, stanno reperendo tutte le eccellenze a livello nazionale che vogliono investire nel nostro comune per poter creare una sorta di vetrina nazionale in modo che quando i turisti arrivano nella nostra città non solo possono apprezzare quello che abbiamo di nostro, quindi di Civitavecchia, ma possono avere un panorama a 360 gradi di tutte le eccellenze italiane. Assessore, non sono mancate le polemiche anche per questa vicenda. Cosa risponde l'assessore? In realtà penso che CNA, in particolare Gismondi, abbia avuto un problema di comunicazione con i suoi collaboratori per il semplice motivo che quando il sindaco di Deruta è venuto qui a Civitavecchia, la prima persona che ho contattato è stato il manager della rete d'impresa costituito appunto da CNA con il contributo e il supporto dell'amministrazione comunale, proprio per creare una sinergia tra le due realtà. Loro parlano di che noi abbiamo danneggiato o comunque non valorizzato l'artigianato locale. Prima di tutto ceramisti a Civitavecchia non ce ne sono per trovare quello più vicino bisogna arrivare a Santa Marinello, a Viterbo e in altri comuni e comunque nessuno di questi si è detto disposto a investire nel nostro territorio o perlomeno non si sono avvicinati, non si sono affacciati alla nostra città per poter creare qualcosa di bello come ha fatto Deruta. In realtà è come al solito che tutte le attività, belle o brutte che siano, soprattutto quando sono belle, hanno le solite critiche strumentali per cercare di svilire una bella iniziativa, bella iniziativa che viene da un gruppo di giovani professionisti che ovviamente lavorano nel silenzio e quindi non vengono valorizzati quando è più delle volte chi parla e chi in realtà ha fatto poco per questa città se non parlare attraverso i mezzi di comunicazione. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!